Il Comitato Civico Custodi della Memoria ha organizzato un convegno dal titolo Theodor Momsen e Lucera in età romana che si è svolto presso la sala di rappresentanza del Circolo Unione. Sono intervenuti Walter Di Piero del Comitato, il dottor Marco Buonocore, direttore della sezione archivi della Biblioteca Apostolica Vaticana e presidente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia e la professoressa Marcella Chelotti dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro, Dipartimento di Studi Umanistici. Durante il convegno con l'ausilio di Slyde è stato possibile conoscere la figura di Theodor Momsen, nato nel 1817 e morto nel 1903. Giurista, filologo, storico ed epigrafista in signe, premio Nobel per la letteratura nel 1902, fu autore della grande impresa di trascrizione di epigrafi latine della Romanità, pubblicandole nella sua monumentale opera il Corpus Iscriptionum Latinarum. Dal grande lavoro scientifico della Momsen si è fatto riferimento alla famosa vicenda della Lex Lucerina, dalla sua scoperta al suo contenuto, preziosa testimonianza del culto dei boschi sacri. Per l'occasione il Comitato ha sensibilizzato i presenti alla partecipazione alla raccolta fondi per le tre teste emotive della Stipe del Salvatore, che saranno battute all'asta il prossimo 18 dicembre a Firenze.